Ai miei tempi, quando si copiava un compito in classe, nessuno si poneva alla questione se fosse legale o meno. Ci ponevamo solo il problema di cosa rischiavamo se ci avessero scoperto i professori. Ora però, in un'epoca di informazione totalizzante, e dove, diciamoci la verità, anche i rapporti scolastici sono stati ormai invasi dalla legge, che non si può dire o fare nulla che subito scatta il codice penale, il problema si pone anche in termini di plagio. Ed allora chiediamocelo. È legale copiare un compito in classe o magari una tesi di laurea? La domanda è più che legittima. La legge italiana infatti punisce il plagio, cioè il furto dell'opera altrui. Questa normativa si applica anche in ambito accademico, e cosa nota infatti che copiare una tesi di laurea è reato, ve ne parlerò a breve. E allora è possibile estendere il discorso anche ai compiti in classe? Molti di voi hanno già superato il liceo, ma almeno per curiosità vorranno sapere se hanno commesso un reato o meno, come io quando ai miei tempi facevo la pipì nella piazzola di sosta e non sapevo che era un atto contrario alla pubblica decenza che all'epoca era un reato. E non solo questo. Comunque, alla fine parleremo anche di chi copia la tesi. E se usate l'intelligenza artificiale sappiate che esiste un tool che rivela la percentuale di originalità di un compito. Si chiama quillbot.com, ma non è l'unico. Mettetevi comodi, il discorso è breve e sintetico, ma nel frattempo iscrivetevi al canale così vi potrò tenere aggiornati su tutte le novità legali del nostro contorto paese. Sì, là! Questa è la legge! Una legge niente poco di meno che del 1925, la numero 475, stabilisce che chiunque in esami o pubblici concorsi per ottenere lauree, titoli scolastici o accademici, ad esempio un dottorato, o per l'abilitazione all'insegnamento, o per l'esercizio di una professione, o per il rilascio di diplomi o patenti, copia gli elaborati altrui, commette reato di plagio ed è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. Ciò significa che copiare un compito in classe è reato? A mio avviso, no. La legge, infatti, sembra punire il plagio con riferimento solo alla prova finale, che consente formalmente il conseguimento del titolo dell'abilitazione. In buona sostanza il reato non scatta nell'ipotesi in cui il plagio avviene durante il percorso di studi, che conduce poi al diploma o alla laurea che sia. La copiatura è punita solo alla prova finale. Quindi copiare un compito in classe non è reato, mentre lo è copiare la tesi, anche quella che si presenta all'esame di Stato per il conseguimento del diploma di maturità. Peraltro, anche volendo ipotizzare che copiare un compito sia reato, sarebbe innanzitutto necessario che ad agire contro di voi sia il vostro compagno o collega di studi. E io qua, sinceramente, non la vedo proprio possibile. Avete capito perché. Tenete poi conto che la responsabilità penale scatta solamente da 14 anni in poi. Prima di questa età, chi commette un reato non è penalmente perseguibile. Se è allora vero che copiare un compito in classe non è reato, ciò non significa che sia lecito. Non ci sono norme però del codice civile che sanzionano questa condotta, né esistono sanzioni amministrative. Quindi per essere puniti è necessario che lo preveda il regolamento di istituto. Resta chiaramente la possibilità per l'insegnante, al di là di ciò che prevede il regolamento di istituto, di annullare la prova. Insomma, amici, copiare un compito in classe può avere conseguenze solo disciplinari per l'alunno, come il richiamo verbale, l'ammunizione e la sospensione, ma la condotta non può essere punita in forza di una norma di legge, né civile né penale. Quindi al di là della valutazione negativa nella singola materia, non ci potranno essere altre ripercussioni. E veniamo all'università. Come vi ho detto, copiare la tesi, sia quella di laurea che quella che consente di conseguire il diploma di maturità, è un reato punito con la reclusione. Ma non solo. Secondo la legge, commette reato anche colui che presenta una tesi non propria, perché gli è stata scritta da un'altra persona. In altre parole, il reato scatta sia nel caso in cui lo studente abbia copiato la tesi di un altro, o anche presa da internet è la stessa identica cosa, sia nell'ipotesi in cui la tesi, pur non copiata, sia stata scritta da un'altra persona. Si tratta della tesi per commissione, cioè dell'elaborato redatto appositamente su incarico di colui che dovrebbe poi spacciare per proprio il lavoro. In quest'ultima ipotesi, peraltro a rispondere penalmente, non è solo lo studente che ha plagiato la tesi, ma anche colui che si è prestato a realizzarla, magari dietro compenso. Perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.